Stiamo fermando ragazzi, tutta l'autostrada, da andata e di ritorno, da Forlì, verso Imola, siamo qui noi gatti, siamo qui. Sì! Sì! 5 km dietro di noi, come fanno? Come fanno a raggiungerci? Come fanno? Sono bloccati! Noi siamo il popolo, continuiamo al popolo! Stiamo lottando per la libertà e nessuno ci ha... Il diritto a manifestare è un diritto civile, possiamo appellarci alla Costituzione italiana. Non dite che noi non ci siamo, noi i camionisti stiamo lottando, stiamo lottando per l'Italia libera! Sì! 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 Sì!